benvenuti benvenuti cari amici siamo vedi questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like iscrivetevi al canale e per cui iniziamo subito oggi iniziamo con un indice molto importante la market cap ok delle cripto in totale vediamo come attualmente stiamo rispondendo molto molto bene in questi ultimi giorni guardiamo quei ultimi tre giorni quindi siamo a 1.5 trillions ok il massimo è stato di 1.8 trillions attualmente per cui ci manca molto molto poco ok per arrivare nuovamente a 1.8 trillions e questo è un indice molto molto importante che ci dice se il mercato è in salute o meno per cui sembra che abbiamo rotto ok questo trend discendente sulla market cap totale e ora quello che voglio vedere è che pian piano gli andiamo a prenderci magari i 2 trillions andiamo a vedere per cui bitcoin bitcoin che anche lui rotto ok questo triangolo discendente che si era formato con la famosa diga 44.000 che è stata rotta ok in minima parte a 43 successivamente abbiamo rispinto il tutto ora siamo a 51.600 dollari quello che voglio vedere è di aver passato i 50.000 benissimo però la action deve continuare secondo me almeno fino a 52 barra 54.000 magari avere il supporto dei 50.000 ok ma di rimbalzare e tornare su se vedremo il supporto dei 50.000 penso che bitcoin e tutto il mercato è in salute per ora sembra che ci siamo ripresi però attenzione fin quando non vedo quel supporto dei 50.000 ok non mi sento completamente al sicuro questa è un po la mia visione una volta che avremo il supporto dei 50.000 a mio parere avviso secondo me andremo ok verso i 57.000 che attualmente rappresentano il massimo i 58.483 e andremo a passarli con magari di una market cap totale di 2.000.000 tra le altre cose che stavo guardando anche la bitcoin dominance che attualmente sta stallando ok sui 62 che al momento non è che ci dia particolari segnali né sulle alz né su bitcoin sembra che sia le alz che bitcoin stanno crescendo di pari passo naturalmente ci sono alcune alz che crescono di più rispetto ad altre andremo ora a vedere le principali iniziamo per cui subito con ethereum ethereum ha rotto ok questa trend line discendente va perso tantissimo veramente tanto dai 2.000 dollari fino ai 1.300 ora sembra che sostanzialmente ci siano ripresi naturalmente ci vogliono ancora volumi vediamo qua i volumi sono bassi ok sui ethereum troppo bassi però penso che ethereum può tranquillamente riandarsi a prendere i 2.000 dollari naturalmente secondo me ci saranno delle coin che cammineranno molto di più andremo a vedere quali stanno camminando di più rispetto ad altre sicuramente polka dot lo vede in gran forma ok anche lui ha rotto ma con forti volumi il triangolo discendente un polka dot che oramai sembra l'ethereum killer anche se non si presenta così ma oramai sembra l'ethereum killer pensate che dai massimi dei 42 dollari gli manca circa il 10 per cento per cui siamo la in questo momento polka dot è sano e in salute sta andando su questo chiaramente è un'inversione un treno di razzista per cui chi ha polka dot bene molto bene andiamo a vedere ave ave situazione un po diverso che perché aveva scaricato tantissimo dai 582 dollari fino ai 2.83 ora siamo ancora in treno in bassista non abbiamo rotto quello che voglio vedere su ave magari andarci a prendere i 500 dollari ok successivamente avere questo supporto a 4 e 27 così 4 e 30 di questa trend line discendente e poi continuare la action se ave non fa questo e non rompe soprattutto questa trend line discendente lo vede ancora in difficoltà andiamo a vederci alpha alpha chiaramente rotto la trend line discendente alfa viene da un pesante dump ma naturalmente aveva bisogno di un assestamento perché dai 3 dollari ai a un dollaro ricordo che alfa partì da 3 centesimi moneta nata qualche mese fa nell'ottobre del 2020 per quanto riguarda alfa abbiamo rotto ok vedo un alfa in salute non penso che al momento tornerà su questa trend line perché c'è stato veramente una rottura con volumi forti alfa pian pianino potrebbe riavviarsi verso i 3 dollari ok naturalmente non sono consigli finanziari come sempre lo ricordo tutto quello che dico è una mia personale visione andiamo a vedere cilis cilis veramente potente vi ho detto che è una coin che sto monitorando a dire la verità l'ho inserita anche in portafoglio penso che a grandi margini di crescita ok perché secondo me deve arrivare ancora l'nfl e l'nba in futuro secondo me arriverà ancora ok quindi i volumi aumenteranno deve essere listata su tantissimi exchange ma anche ad esempio su coinbase su exchange molto importanti ok per ora stiamo a 8 centesimi quasi ok abbiamo fatto un hype a 008 attenzione attenzione a cilis ok naturalmente cilis moneta molto volatili dei 7 centesimi siamo passati ai 3 successivamente ora abbiamo rotto ok verso i 8 quindi è l'unica coin che va a passare il suo ultamai quasi è una delle uniche in questo momento con btc che ancora tra virgolette debole secondo me cilis ha grandi margini di crescita per tutto il 2021 penso che lo sport entrerà fortemente all'interno al blockchain anche perché attualmente cilis è l'unica moneta legata al mondo dello sport e così via naturalmente trovate anche il referral link dell'exchange di cilis sotto in descrizione andiamo a vedere riff riff che anche lui rompe ok di prepotenza no di prepotenza però va a rompere questa trend line ok discendente lo vediamo chiaramente qui ora su riff potrebbe avviarsi un nuovo trend ascendente ok naturalmente ci vogliono ancora volumi oggi bella giornata perché ha fatto circa 70 milioni di volumi ok che non è poco su una coin di circa 100 milioni di capitalizzazione anche su riff ho diciamo una bella ottica dal mio punto di vista ovviamente come sempre non sono consigli finanziari ma è la mia visione e secondo me deve ancora dare dare tanto a mio modesto parere avviso è un gigante dormiente a questo punto non penso che almeno di uno scarico profondo i bitcoin che rivedremo cilis a 3 centesimi ok nel breve questo è un problema idea è più facile che inizio è più facile che inizia andare a attaccare i 4 centesimi e pian pianino vada a prendersi ok il ultamai ci vorrà un pochino di tempo però penso che sui cilis devono arrivare tante notizie ancora dei basket e così via stanno lavorando la piattaforma è previsto anche un burning ok di tantissime tantissime coin e per cui vedremo un po' che cosa succederà altre cose a dire in questo aggiornamento non ci sono per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e ci vediamo presto grazie a tutti